Brutta caduta in moto oggi, martedì 29 marzo, sulla provinciale 56 che conduce da Torre Canavese a San Martino. Il motociclista, in sella alla sua Yamaha R6, per causa in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra, a bordo strada, all'altezza di una doppia curva. Immediatamente soccorso da un automobilista di passaggio, il centauro è stato poi stabilizzato dai volontari del soccorso della Croce Rossa di San Giorgio e dal personale medico dell'elisoccorso, per essere poi trasportato al CTO. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Strambino. L'uomo, cosciente, non parrebbe in pericolo di vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.